Potenziare i controlli sul territorio, in particolare in materia di sicurezza stradale contro le violazioni al codice della strada. A Sanza, gli agenti della Polizia Municipale sono stati dotati di un nuovo strumento che li aiuterà ad individuare quanti commettono infrazioni e ad accelerare i tempi di notifica delle multe che saranno consegnate direttamente a casa del trasgressore. Grazie al riconoscimento di fondi da parte della Regione Campania, l'amministrazione comunale sansese ha consegnato al comando di Polizia Municipale una vettura con in dotazione l'apparecchiatura di street control, ossia un nuovo e moderno strumento di controllo per la sicurezza stradale. Si tratta di un impianto composto da videocamera infrarossi e macchina fotografica montato sulla vettura di Polizia Municipale, che consente di scattare due foto in contemporanea anche a distanza di 20 metri. Con questo strumento sarà possibile per gli agenti di Polizia Municipale rilevare le auto in sosta vietata o quelle in doppia fila. Inoltre, attraverso il sistema di controllo telematico, sarà anche possibile per gli agenti verificare direttamente lo stato del bollo, dell'assicurazione e della revisione del veicolo. Soddisfatto il sindaco di Sanza Esposito, che evidenzia come lo strumento in dotazione degli agenti di Polizia Municipale, consentirà di regolamentare al meglio il rispetto delle aree di sosta e del controllo, più in generale, della sicurezza stradale. Da qui l'invito a tutti i cittadini ad essere rispettosi delle norme e soprattutto delle aree parcheggio. Un utile strumento che, come evidenziato dal primo cittadino, contribuirà ad elevare le sanzioni sopperendo alla mancanza di personale. Alla Municipale, infatti, basterà effettuare ricognizioni di controllo sul territorio più volte al giorno per verificare il mancato rispetto delle norme stradali. Le strumentazioni in dotazione rileveranno le infrazioni e si procederà all'invio delle sanzioni direttamente a casa. Il progetto, finanziato per il 75% dalla regione Campania, è stato curato dal vice sindaco e dai consiglieri, che il sindaco Esposito ringrazia per l'impegno profuso e che è stato anche dimostrazione di una perfetta sintonia e di un perfetto spirito di squadra che caratterizza l'amministrazione comunale. La nuova vettura della Polizia Municipale rappresenta il tassello mancante a piano parcheggio elaborato dall'amministrazione comunale, che a questo punto entra nella piena operatività vista la possibilità, attraverso lo strumento, di fornire un attento controllo del rispetto delle norme.